nel mondo le donne rappresentano la maggioranza dei laureati il 57 per cento eppure solo in un paese su cinque le scienziate e le ingegnere eguagliano il numero di uomini gli studi sulle donne nelle stem si occupano di indagare quali sono i motivi della sottorappresentazione delle donne nella scienza sia in termini di iscrizioni delle ragazze alle stem sia in termini di carriere nel primo caso gli studi analizzano soprattutto gli stereotipi di genere che influenzano la scelta delle ragazze ad iscriversi ad una carriera stem nel secondo caso invece si occupano piuttosto di capire quali sono i fattori organizzativi e quindi prassi di selezione promozione e valutazione poi che possono favorire l'accesso e poi promuovere ostacolare la carriera delle donne nella scienza la terza area di ricerca si occupa invece della percezione pubblica della scienza e delle differenze di genere nella percezione pubblica di alcune tecnologie e in quest'area è anche nata una riflessione su nuovi modi di includere soggetti storicamente svantaggiati perché si è visto che i soggetti che tipicamente partecipano alla scienza per esempio alle attività di citizen science hanno un profilo sono maschi bianchi con un livello di istruzione e uno stato socio economico medio alto il maggior divario di genere è in alcuni campi dell'ingegneria come quella meccanica e nell'informatica ma in ogni caso le stem rappresentano una sfida per le donne e per le ricercatrici in particolare una donna non è facile fare questo tipo di lavoro perché è un lavoro abbastanza totalizzante e quindi è molto difficoltoso conciliare poi il lavoro con quelle che sono esigenze più personali legate chiaramente alla famiglia forse questo purtroppo al giorno d'oggi ancora seleziona un po le persone che mantengono una certa costanza assumono dei ruoli un po più importanti ecco mi dicevano ma no ma vai a insegnare alle elementari che così poi è il pomeriggio libero io sono fortunata perché ho una famiglia ho tre figli che sono tanti però ho anche un supporto cioè ho sia i miei genitori che i genitori di mio marito che mi aiutano se non avessi loro probabilmente non potrei fare il lavoro che faccio gli studi mostrano che anche le donne interiorizzano un modello secondo cui gli uomini sarebbero più adatti al lavoro e alle stem entrambi i sessi infatti durante la selezione del personale risultano preferire gli uomini a parità di curriculum con le colleghe ma perché è importante combattere questi stereotipi perché dovremmo volere più donne nelle stem l'argomento principale che viene portato a sostegno di un aumento della partecipazione delle donne nelle stem e quello opportunistico strumentale ossia più donne nella nella scienza comporta una un beneficio all'economia comporta uno sviluppo economico più più forte in realtà questi studi sono appoggiano su basi non sempre non sempre molto solide e soprattutto portano a dei risultati a volte in contrasto tra di loro più interessante sposare l'argomento della prospettiva cioè ho bisogno di avere persone diverse nella scienza perché questo mi arricchisce lo sguardo anni fa un'azienda progettò cinture di sicurezza airbag facendo dei test soltanto con gli uomini e questo portò l'azienda a dover riprogettare perché non aveva considerato che alla guida potessero cioè potessero esserci donne incinta quindi quella cintura e quell'airbag che aveva progettato erano dannose per la madre bambino l'altro esempio che è molto attuale oggi è quello della medicina di genere ma come adesso abbiamo visto quanto le differenze di genere siano importanti per esempio nel caso del sistema immunitario dell'esposizione ai diversi fattori di rischio che hanno uomini e donne quindi la medicina di genere soprattutto negli ultimi anni ha spinto per esempio al fatto che nei trial clinici fossero presenti anche le donne prima non era così e i risultati venivano generalizzati anche alle donne e quindi avere questo sguardo ha portato a fare delle riflessioni ulteriori quindi ha arricchito la generazione della conoscenza scientifica. Credo fermamente nella qualità del lavoro e della presenza delle donne e mi auguro che finalmente arrivino ai vertici della nostra società in tutti i campi Umberto Veronesi a tutti i campi Umberto Veronesi